Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Beppo e oggi siamo nel quarto episodio della Diversity Sempre in compagnia di Lori Ciao a tutti E oggi inizieremo l'adventure Ho visto che lag sta caricando Sì eccoci Stava aveva cresciato il mondo E sta laggando un sacco adesso sta caricando tutto Allora devi prendere una canola da pesca E un pesce crudo Perché quella è la cosa più importante Pesce crudo Rettanto Dove ben cercare la Holy food Entriamo dai Ti sei? Sì un secondo Che c'è la pulsante? Sei la per la leggenda? Sei venuto Da una città lontana Per la Holy food Ho capito cosa c'è Il resti Sta arrivando Evil I cattivi I cattivi Lord zombie Tu devi distruggerli Prendi le loro teste E portamele E portamele Dentro la cesta è quella una vuota Ok Nella cesta del re Va bene Qua si sono i prigioni Ho trovato una torta Un po' di carote L'ultimo pensiero Ti porto giù un po' di carote dai Eh Oddio Dammi un po' di Braghini scusa Non ci sono Sì che ci sono No C'erano prima Io ne ho uno Mi dispiace Ti sbatto in faccia del pesce Ok Andiamo a cercare No Allora Ho preso tutto Oh Bella roba Lo sai Boh Andiamo a cercare Appena trofino a cesta Mi tipizzo io da te E va Un pochettino di lag Allora io vado sempre dritto Allora Dove sei? Non penso che siano così bastanti Ah mi sa che qua c'è un altro C'è un altro castello Eccolo là Castello del male Ah è delle zombie Delle zombie sarà Sì Io non lo vedo Perché ho abbassato un po' la vista Perché stava caricando il nonno Un attimo che la rialzo Zombie Una cesta con delle patate non cotte Inutile Io vado a chiamare Vado dal zombie centrale qua Dal re Sì Lo clicco Un secondo What? Don't kill me Listen Ok Non uccidermi Ascolta quello che devo dirti Bene Il re L'altro re È un bucar È un bucar E tu sei il primo Che viene in quest'isola Il re cattivo Steve Ha bisogno della lana Della No Della Hull Per aumentare i suoi poteri Quindi tu che sei la leggenda Altra cassa Carote Altre carote Seriamente Non sono uno zombie Allora guarda Tranquillo Tranquillo Non sono uno zombie Io non credo proprio Ho detto il tipo Cioè che c'è un passaggio Eh magari nel castello Dell'altro tipo Vuole imbrogliarci Qua Fammi rileggere Allora Qua ci sono delle spade in oro Ma sono inutili Vabbè dai andiamo nell'altro castello Per me dobbiamo tornare Nell'altro castello Eh Beppo Ma mi tolgiamo Però non vorrei dirtelo Porta Una porta di ferro Chiusa Oh ecco ottimo Ecco ho sempre ragione io Bravo Lockhead Ah bah Ma è chiusa No spade Bah Perché è così Prova a riparare C'è un altro passaggio Come Come Simile al tuo Ok prova a parlare di nuovo Con la testa di zombie Sirius Ah no I'm no zombie Vabbè fin qua ci siamo Tu non sei no zombie Se lo dici tu Io ci credo Nel senso E se c'è magari un passaggio nell'acqua Adesso vado a controllare Mmm Nel castello mio però Eh no nel tuo Perché nel tuo non penso Che abbia l'acqua Però va benissimo Intanto c'è una mosca Però adesso non c'è niente Ok qua c'è Il tipo Manco io sto trovando qualcosa Ti ho portato la testa Contento Non so come hanno fatto Non vedermi ma Si vede che sono tonti Sirius You give me That crap Sei scemo Sei stupido Eh Dov'è finito adesso Beppo Stai la testa Dallo zombie Allora Al tipo là Ho paura che abbia sbagliato Hai Hai una testa te Si Del tizio di prima Del tizio Vero Del re è questo qua Sì Dammela che la butto L'ho messa Ok Aspettami che non sono ancora arrivato Guardi ecco Buono Oddio No one Takes the hole Solo Ok Ti ha fregato Eh già Ecco perfetto Prigione Ci ha tolto tutto Si Ci ha fregato Allora Che cosa si è aperto Sotto una botola Ok Siamo i topi di fogna Da che parte andiamo Seguiamo l'acqua Si per forza Perché qua non parto Ci hanno rubato tutto Ci hanno rubato Raga Mai credere Lo zombie No no Mai credere agli umani Credete agli zombie Quindi io non potrei fidare di te Che schifo Beh qua ci ha fatto la pipi beppo Beh Ok adesso dobbiamo cercare La via di uscita Esatto Quindi Avrei dire di andare Adesso di vostro ponte Direi che è l'unico posto In cui possiamo andare Esatto Allora Un ponte Ok io vado Andiamo di qua C'è una stanza Io vado di qua Ah ok di qua andiamo Vai Vieni qua c'è una stanza C'è un corridoio tipo Un attimo un attimo Leggi i cartelli Magari c'è scritto qualcosa Fermati L'ho autorizzati Vabbè Qua c'è da cercare una leva tipo Per aprirlo forse Guardi guardi Non c'è niente Dietro Il Quelle Un quadro Cosa va dietro Oddio Una Un attimo C'è un corridoio Ok ragazzi abbiamo Tutto corridoio C'è un corridoio E qua c'è una leva in fondo Da apro Dove? Vai apri Ok Oddio Oddio No Per quelli che sono arrivati qua Non so che cosa vuol dire Onestamente Penso Sì va bene dai Andiamo C'è un muro di bedrock C'è un muro di bedrock Prova 1 Supera questo Insuperabile barriera di bedrock Scherzo Ok Superata Prova numero 2 Passa queste Infinite Fiamme che bruciano Interessante Prove molto difficili direi Prova Arrampicati su questo muro Va bene Penso non sia difficile Però Ho sbagliato Scusa Per me dentro questo cubo qua Ci sono un botto di sfide C'è della lama Non ci credo Non ci credo Non può essere così facile Non può essere Ma Ce l'abbiamo fatta Ma è lo zombie poverino Ma che Che l'abbiamo ammazzato Poverino Non c'entrava niente Ecco l'advento Escape Via ragazzi Pronti con escape Siamo fatta escape Allora questo Ok Ok Ora inizieremo l'escape Vale Vai Libro con 1e Perfetto Ah Dobbiamo completare una parola 1e Dovrebbe essere e La prima Devi tipo indovinare le robe E' una E' difficilissimo Qua il gioco Basta qualcosa Tipo Redstone lamp Surplus storage Oh vabbè Non c'è della lava Qua dentro Nella verde? Si Oh una cesta Ud Sei tu Eh sto andando io Da qualche parte C'è una spazio C'è un'incudine Watch for a felling anvils Oh sto morendo For a felling anvils Quando cade Mi è caduto addosso Quella Prima Cosa strane Nella gialla Andiamo Proviamo a tornare indietro E andare in un'altra stanza Allora non c'è niente qua Torniamo al punto di spawn Che è questo giusto? Si A gift below Proviamo ad andare al terzo piano Sono a un piano sotto Penso Ok Questa è l'ascensore principale Penso C'è Ok Apri 5p Ok quindi E' quindi lettera P Però io ho quattro Libri Tutti uno E' strano Sicuramente dovremmo andare di qua Oddio Ciao a tutti Qua c'è una stanza Ok sa bene le anime Non portata da nessuna parte Penso Sono bloccato Già Enjoy the flames Ah dobbiamo entrare nelle fiamme Ok qualcosa ci sarà Oddio piccato un pigman Oh mio dio E' la La salta dei Ok Andiamo adesso Qua You say trolling I say here E qua c'è una stanza con la lava Ok Di sicuro dovremmo andare di qua No sto more Qua c'è una cassa Oh prendile 3C Dammi 1 3C Ok Dammene 1 E' una pietra rossa La prendo lo stesso L'ho messo nella cassa Enter Ok provo a entrare nella lava Vai prova Eh no Direi che non c'era niente Like green cactus No non mi piace Ok c'è una stanza Vieni qua Oh Come sono soffocato in un muro Vieni qui vieni qui c'è una stanza C'è una cassa Eccomi Secret Piani segreti Oh Dei diamanti C'è una stanza Vieni qua No vieni te Io di lì sono già andato Una cassa Cosa c'è Beppo Dimmi Beppo Ok vado io Vai prova Ok Vuota E da altre parti Ora vado aspetto Che Shift Sono qua Ben giocare Ti fidi Ci fidiamo Prova E poi prova te Vai da casa No ma fuori da Ok Fermati Corri subito Oddio Qui doveva Mettere il codice Eh io a 101 livelli Aspetta abbiamo Eh abbiamo E C E E E Escape Escape Prova a scriverlo Prova 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 Io non ho i livelli di esperienza Ah li ho io Perfetto guarda Faccio Cosa è successo La lana No girl Oh lana Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oddio Oddio lana ciano Mettiamola dentro Adesso Eccolo lì Oh mio dio Ragazzi Mamma mia E ce ne mancano due La survival E la boss battle Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Un saluto da Beppo E Lori Ciao a tutti